Il rischio cyber è sempre più presente in sanità, con degli impatti importanti sia sulle attività degli ospedali che sulla salute dei pazienti. Per questo abbiamo scelto di accompagnare le strutture sanitarie offrendo prodotti e servizi per la riduzione del rischio. Ma il rischio zero non esiste ed è qui che entra in gioco l'assicurazione cyber, attraverso la quale assicuriamo il rischio residui. Siamo così in grado di offrire una gestione del rischio a 360 gradi. La nostra polizza cyber è stata costruita insieme alle strutture sanitarie e ciò ci ha consentito di comprendere al meglio i loro bisogni. Abbiamo inoltre svolto delle analisi comparative nei diversi paesi in cui siamo presenti, con lo scopo di creare un prodotto competitivo e allineato alle esigenze del mercato. Il nostro prodotto è specifico per la sanità ed offre strumenti concreti per attenuare l'impatto di possibili incidenti cyber. Oltre alla compensazione economica in caso di sinistro, offriamo supporto nella gestione degli incidenti tramite i nostri partner disponibili H24 in lingua locale. È infatti fondamentale fornire un supporto all'incidente efficace e tempestivo già dalle prime fasi della crisi per ridurre il più possibile l'impatto globale dell'incidente.